buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 6 luglio 2023 iniziamo la nostra trasmissione a partire come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ebbene oggi è una santa molto nota e molto vicina a noi e santa maria goretti santa maria goretti la santa di corinaldo è nata il 16 ottobre del 1890 quindi non molto tempo fa appunto a corinaldo un paesino in provincia di ancona ma è vicino alla valle del cesano la sua storia è nota ma è non meno impressionante di quanto accade oggi quando stupro e femminicidio costituiscono un reato ahimè molto molto frequente marietta questo è il nome con la quale veniva chiamata fu aggredita da alessandro serenelli un giovane solitario che nel tentativo di stuprarla la colpì con 14 coltellate marietta morì perdonandolo dopo 20 ore di agonia e la santa la si ricorda con particolare venerazione oggi modo particolare nella chiesa di sant'orso a fano dove la parrocchia è a lei intitolata santa maria goretti vediamo le previsioni del tempo oggi il tempo è buono poi ce lo confermerà anche mauro talamelli dei bagni la baia vediamo le previsioni cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e verranno da ovest pomeriggio moderati da nord nord est le temperature tra i 20 e i 28 gradi il mare è poco mosso ma il mare lo vediamo subito collegandoci appunto con la concessione con la concessione la baia nei pressi e la baia metauro insomma siamo qui la zona buongiorno buongiorno mauro buongiorno massimo buongiorno a tutti allora il mare poco mosso mare una tavola oggi il mare stamattina una tavola speriamo che mantenga tutto il giorno dovrebbe essere il primo mattino dopo si alza un pochino di vento ma dopo ritorna bellissimo gli ultimi due giorni ha fatto così dovrebbe essere così anche per l'intera giornata e forse anche per i prossimi giorni senti ma tu ti alzi presto e vedi l'alba al mattino dalla tua spiaggia a volte sì a volte quando sono qua che arrivo presto sì ed è bellissimo ho fatto dei post fantastici con l'alba qua in spiaggia immagino ci sono anche qualche qualcuno che si sveglia presto a vedere questo grande spettacolo insieme a te no insieme a meno sono solo quindi sei un'eccezione però insomma lo spettacolo veramente merita così come il tramonto perché poi anche il tramonto ha il suo fascino sì sì bellissimo senti hai qualche iniziativa in programma per questa giornata o questa settimana sinceramente ancora no parteremo con qualche iniziativa la domenica qualche cocomerata e ancora non l'ho programmata forse domenica ecco diciamo sono iniziative che riguardano non so un po di musica un po di intrattenimento tu a che ora chiudi alla sera la concessione io qui come spiaggia chiudo quando è le nove insomma quando va via tutti i signori bagnanti però c'è anche il ristorante che quello rimane aperto e lì la musica c'è insomma l'aperitivo con la musica c'è a quindi si può pranzare anche in riva al mare insomma anche questa è un'occasione importante che cosa offre il ristorante il ristorante qui in spiaggia offre il pesce oltre a piatti freddi diciamo cose veloci insalatone però anche un ristorantino a tutti gli effetti ecco dove si mangia il pesce fresco fatto dai cuochi al momento diciamo cosa va di più la rostita o il brodetto la rostita penso la rostita si mangia prima insomma si mangia meglio non ci si sporca insomma e quindi è anche poi se è calda il pesce fresco è una cosa veramente veramente molto molto buona bene Mauro ti ringraziamo per questo piccolo separietto che facciamo al mattino ci risentiamo ancora domani speriamo che sia a bel tempo grazie e buona giornata grazie a tutti voi buona giornata abbiamo i giornali partiamo dal Corriere Adriatico oggi ma l'apertura è uguale anche sul resto del Carlino anzi possiamo accostarli vediamo che si parla della Fano dei Cesari Fano dei Cesari seri imperatori sindaco alla testa della parata del trionfo questo è il titolo che appare sul Corriere Fano dei Cesari il grande show e le tribune diventano a pagamento ci mette subito una piccola spina il resto è il Carlino ma lo fa poi anche il Corriere Adriatico con un trafiletto si paga il biglietto solo sulle tribune ebbene questa è una delle novità cominciamo subito con quella che magari non è molto esaltante si paga il biglietto però si sta più comodi saranno due tribune 600 posti totali per gli spettacoli di sabato e di domenica vediamo che i prezzi sono molto molto contenuti sabato si pagherà 5 euro l'ingresso in tribuna gli adulti e 3 euro i ridotti mentre domenica i prezzi aumentano leggermente 8 euro gli adulti e 5 euro i ridotti coloro che non andranno in tribuna invece potranno entrare gratuitamente ma parliamo della manifestazione che ieri si è svolta che ieri è stata presentata nella sala della concordia dell'amministrazione comunale da tutti gli organizzatori l'amministrazione comunale e poi con il supporto della regione Marche e tutte le associazioni che si impegnano a realizzare questa bella grande manifestazione che forse è un unicum in tutta Italia non le rievocazioni romane che ormai hanno preso in diversi centri ma la corsa delle bighe in uno scenario veramente unico quello dell'anello del pincio di fronte all'arco di Augusto e lungo le mura romane quindi reperti originali dell'antica Roma che rivivono quello che accadeva adesso non accadeva la corsa delle bighe perché la corsa delle bighe una volta si faceva nei circhi e quindi avevano dei luoghi deputati però insomma si rivive l'atmosfera di duemila anni fa vediamo qualche notizia che appare sui giornali si è appena spenta l'eco del rimbombo dei tamburi dei Malatesta Fano che la città si appresta a fare un altro salto a ritroso nel tempo fino a giungere alla Fano dei Cesari. La novità di quest'anno è la ricostruzione della Parata del Trionfo che avrà luogo domenica 16 luglio il massimo della monumentalità e della scenografia che è stata studiata dai romani e ovviamente chi si festeggerà chi sarà l'eroe di turno e questa volta dato che è giunto al termine quasi al termine della sua tornata amministrativa sarà il sindaco Massimo Seri che impersonerà l'imperatore Augusto Cesare Augusto poi sarà ascoltato da tutte le legioni il popolo in festa insomma tutta la scenografia di un trionfo così come la realizzava sarà veramente un bellissimo spettacolo. Comunque questo poi sarà caratterizzato dalla grande sfilata delle fazioni circa 2000 persone alle 19.45 comincerà lo spettacolo di domenica domenica 16 luglio nell'arena del Pincio e poi ci sarà la sfilata delle fazioni arriveranno poi le legioni e quindi la corsa delle bighe intorno alle ore 22 ma ci sono poi i giorni che precedono questo evento culminante infatti inaugurazione con l'accensione del fuoco sacro sempre al Pincio è prevista per mercoledì 12 luglio alle ore 21 e il giovedì invece sarà dedicato ai bambini ci sarà la bellissima corsa delle bighette poi con tutti i giochi che l'associazione genitori di Sant'Orso ha preparato così come ha ottenuto un grande successo negli anni scorsi. Venerdì sarà il giorno degli spettacoli con momenti di danza recitazione e la ricostruzione di una battaglia. Sabato si svolgeranno i baccanaglia banchetti insomma non saranno più però nella zona del Pincio quest'anno sono trasferiti in piazza Andrea Costa e poi domenica la grande giornata della rivocazione storica con la parata, la sfilata, il trionfo poi tutte le scene della battaglia e quindi la corsa delle bighe. Corsa delle bighe che in realtà non è una corsa vera e propria con l'agonismo che dovrebbe suscitare in realtà è un grande spettacolo perché insomma si rivive veramente quello che è lo spirito e l'atmosfera della Fano romana. Cambiamo argomento e parliamo di un evento più prossimo perché arriva la notte dei saldi, questa sera è la notte dei saldi e c'è una grande attesa dei commercianti non solo fanesi per questo evento perché l'andamento delle vendite non è stato affatto secondo le aspettative nei mesi scorsi. Il mese di maggio ha avuto poche cerimonie e quindi ha dato poca opportunità al pubblico, ai consumatori di acquistare nuovi abiti, nuove scarpe per appunto rinnovare il proprio Guarnaroba. Poi il mese di giugno con le intemperanze del tempo ha poco motivato l'acquisto degli indumenti di tipo balneare, di tipo estivo, quindi l'occasione degli saldi è un'occasione importante per tutti i commercianti per cercare di svuotare i loro magazzini, magazzini dove non si trovano le rimanenze ma i prodotti di stagione i quali verranno appunto messi in vendita a prezzi scontati. Quindi è una bella occasione per approfittare e rinnovare il Guarnaroba. A rendere più attraente la serata di oggi, dalle 19 in poi, ci sarà poi in piazza lo spettacolo di chiara danza a ritmo di musica. È un'iniziativa che può rappresentare una boccata d'ossigeno per le attività economiche, ha dichiarato l'assessore al commercio Etienne Lucarelli, mentre la presidente della Confcommercio Barbara Marcolini ha evidenziato le opportunità che l'iniziativa può dare sia ai commercianti che al pubblico. Vediamo ora nella seconda pagina del Corriere Adriatico una bella iniziativa del Rotary che organizza una regata velica per raccogliere fondi per sostenere una iniziativa importante dal punto di vista sociale, il Centro per le Famiglie. Un'iniziativa che coinvolge in pieno l'ambito sociale numero 6, ovviamente si tratta di assistenza delle persone più fragili, è quindi un'iniziativa che si svolgerà nel weekend tra il 15 e il 16 luglio, con una cena di gala il sabato sera e la veleggiata la mattina dopo. Oggi si svolge anche il primo incontro di Memborabiglia, una iniziativa giunta all'ottava edizione organizzata dalla Mediateca Montanari di Fano che prosegue, così possiamo dire, anche l'invito alla lettura che è stato diramato con grande grande evidenza dal Festival Passaggi. Quindi l'invito alla lettura non è un fatto episodico nella città di Fano, ma è un invito, una promozione che si svolge anche durante l'anno. Memborabiglia costa di quattro appuntamenti. Nei giovedì del mese di luglio vediamo quali sono i libri che verranno presentati. L'incontro di questa sera prevede la presentazione del libro Geopolitica, Capire il mondo in guerra, di Greta Cristini, che è una reporter di guerra che recentemente si è occupata in modo particolare del conflitto russo-ucraino. Quindi è un libro di grande attualità. Il 13 luglio sarà la volta di L'armonia dei frutti baccati dello scrittore Roberto Tiraboschi. Il 20 toccherà il romanzo Il tuffatore di Elena Stancanelli e chiuderà la rassegna il 27 luglio il romanzo Genitore cercasi di Andrea Vitali, che è un collaboratore storico a Memborabiglia. Vediamo ancora un'altra iniziativa, un'altra iniziativa che questa volta tira in ballo la protezione civile. È stata presentata nella giornata di ieri. Ieri è stata una giornata ricca di presentazioni di iniziative. E questa ha cominciato proprio la giornata, le 9.30. È una campagna che svolge la protezione civile, quella che viene sempre interpretata dal CB Club Enrico Mattei. La popolazione, ha detto il suo presidente, Saverio Olivi, ha bisogno di essere informata di continuo su come proteggersi per un paio di esempi in caso di terremoto e di alluvione, che sono poi gli eventi, dobbiamo dire, purtroppo più frequenti che capitano nel nostro territorio. Ebbene, la protezione civile ha organizzato tre spot cinematografici realizzati da Henry Secchiaroli, il noto regista fanese, che evidenziano, danno indicazioni per come la popolazione deve comportarsi in caso di eventi. Sono consigli molto utili che verranno poi corredati da altre iniziative. A settembre inizierà una nuova serie di incontri nei quartieri, ha aggiunto l'assessore alla protezione civile Christian Fanesi. Saranno tre spot, saranno appunto questi incontri nei quartieri in cui si parlerà vis-à-vis con la gente, in più verranno priorità di questi tre spot. Passiamo a Fossombrone, diamo merito a questa ragazza, Giorgia Fucili, che ha 14 anni e è diventata campionessa italiana. Ha vinto la medaglia d'oro nella specialità trave e fa parte di una famiglia di talenti sportivi. È una campionessa di ginnastica artistica, una specialità che soprattutto riguarda la trave e quindi ha raggiunto il vertice della sua sfascia di età a livello nazionale. Vediamo ancora le altre notizie sul Corriere Adriatico. Un bimbo scivola dal seggiolone soccorso dall'eliambulanza. È accaduto a San Lorenzo in campo. Purtroppo è stato un attimo, la mamma non ha fatto in tempo a fermarlo prima che cadesse. Il dramma si è verificato all'ora di pranzo. Il bambino ha riportato traumi e quindi ora è ricoverato al Torrette di Ancona. Non ha nemmeno un anno. A Pergola si festeggia, si organizza l'Alterfeste, il Festival della Inclusione Sociale. Si tratta della quarta edizione alla quale sono stati creditati ospiti internazionali. Ebbene, si tratta di una iniziativa importante dedicata appunto all'inclusione di categorie svantaggiate, quali disabili e giovani con bisogno di integrazione sociale. In questo articolo sono riportati tutti i personaggi veramente importanti e noti che parteciperanno alla manifestazione. Vediamo la pagina di Senigallia, capitale italiana della cultura. Anche Senigallia tenta questa grande carta di promozione. Senigallia in gara unica nelle Marche. È stata inserita tra le 26 città che partecipano a questo concorso, chiamiamolo concorso, ma è veramente una gara importante dal punto di vista culturale che si terrà però dopo che Pesaro festeggerà il suo primato il prossimo anno. Il sindaco Olivetti di Senigallia dice abbiamo le carte in regola per vincere, ma comunque sarà una competizione abbastanza guerrita perché vediamo quali sono le altre città in Lizza. Ebbene, sono 26. Sono Agnone, Alba, Bernalda, Carpi, Cleto, Cosenza, Gaeta, L'Aquila, Latina, Lucca, Lucera, Maratea, Marcellinara, Massa, Moliterno, Nuoro, Pantelleria, Potenza, Rimini, Senigallia, appunto, Todi, Treviso e poi c'è l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, l'Unione dei Comuni Terre dell'Oglio, del Sagrantino, l'Unione dei Comuni Valdichiana nel Senese e l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Quindi vedete come c'è un gruppo veramente agguerrito per contendersi questo primato. E a questo punto vediamo la pagina di apertura del Corriere Adriatico per quanto riguarda Pesaro dedicata al maxi appalto di Palazzo Mazzolari Mosca. Uno dei palazzi più importanti del capoluogo sarà una gara a tre. Sono state accettate tutte e tre le candidature che avevano presentato la loro offerta appunto a questa gara. Per Palazzo Mazzolari Mosca è prevista una grande ristrutturazione e il restauro degli affreschi del piano nobile. 8 milioni, questa è la cifra ingente che è stata messa a disposizione, 8 milioni 630 mila euro l'investimento del Comune con i fondi europei. Sono stati ammessi, come dicevo, tutti e tre raggruppamenti temporanei di impresa, mentre la Commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche per decidere la ditta vincitrice. La scadenza è fissata al 30 di luglio. Svetta la ruota con vista sulla palla. Luogo top si resta fino a ottobre. Anche Pesaro, dopo la torre, dopo i centri di attrazione, tra cui anche il grande casco di Valentino Rossi, ebbene per questa estate Pesaro avrà la grande ruota panoramica. Resterà fino a ottobre, salirà fino a un'altezza di 35 metri e sabato ci sarà l'inaugurazione. Vediamo ora il resto del Carlino. Abbiamo in prima pagina l'articolo che riguarda l'affano dei Cesari. Il grande show e le tribune diventano a pagamento. Appuntamento con l'antica Roma dal 12 al 16 luglio. 2.000 i figuranti, 600 i posti a sedere in tribuna. Biglietti, come abbiamo visto, da 3 a 8 euro per godersi lo spettacolo di danza del sabato e la corsa delle bighe della domenica. E poi una iniziativa che forse è un po' minore, ma non trascurabile, perché è l'iniziativa più importante che si svolge in un quartiere, quello di Tombaccia, al di là del fiume Metauro. Ad organizzarla è proprio l'associazione Quedla dal fiume. Alla festa del fritto debuttano bombette e straccetti, lo evidenzia appunto il resto del Carlino. Da domani, tre giornate per tutto il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, a suon di fritto. Ebbene, poi qui sarà una sinfonia veramente di olio sfrigolante, ma di olio che non fa male, perché viene cambiato correntemente, olio di girasole, in cui friggerà pesce, ma anche carne, e anche delle verdure, perché le olive alla scolana sono veramente una bontà da assaggiare. Sarà un gran fritto a base di pesce, non solo, in una delle tre giorni, in una tre giorni, no, in una tre giorni di divertimento ed esperienze enogastronomiche di eccellenza. Quindi nei giardini di Tombaccia, da domani a domenica prossima. Un articolo di cronaca. Cocaina, i soldi nel bed and breakfast patteggiano i pusher. Un uomo e una donna erano stati arrestati, l'uno in vacanza, l'altro in aeroporto. Ebbene, hanno patteggiato la pena, sono stati appunto riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti, condannati a due anni e due mesi, 20 giorni di multa, di 20 giorni, 10.000 euro di multa. Si tratta appunto di un uomo, tutti e due sono di fan, un uomo e una donna. Premiati bar centrale e alimentari, hanno fatto la storia del paese a Sant'Ippolito. Si tratta di due attività di Pian di Rose, in una frazione di Sant'Ippolito, che hanno ricevuto un riconoscimento regionale. A Pergola, artisti da tutta Europa, l'abbiamo già visto, alvia questa sera il festival Alteraste, il festival dell'inclusione. Ma vediamo anche questo articolo che riguarda in un certo senso la cronaca, ma ha anche un risvolto sociale. Mancano agenti nel territorio, sit-in di protesta dalla polizia. Anche i poliziotti protestano e ne hanno ben ragione, perché veramente i loro turni sono massacranti. I controlli del territorio latitano, appunto, per insufficienza di persone. Quelle che ci sono in servizio, ovviamente, si fanno in quattro per cercare di assicurare la sicurezza a tutti i cittadini. Ebbene, domani alle 11, davanti al commissariato di Fano, ci sarà un set-in per indurre gli organi competenti a rafforzare l'organico dei poliziotti nel commissariato di Fano. Vediamo ancora altri titoli. A Urbino, gli Stati Uniti trovano l'America nell'agricoltura urbinate, vengono per studiare soprattutto il farro nella città ducale, mentre a Fossombrone si rilancia il corso un mare di eventi che viene evidenziato dal vitecinaco Michele Chiarabelli. Abbiamo aggiunto l'elemento scenografico dei tendaggi lungo i portici, ristampe di vecchie foto nei negozi. E con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani sempre alle 7 per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto. A risentirci.